ciao a tutti io sono stu energy e benvenuti in un nuovo episodio di light valley in questo episodio vediamo di provare ad andare lungo il fiume andare a dettagliare la parte lungo fiume e perché no provare ad attirare qualche turista mettiamo qualche hotel qualcosa del genere vediamo vediamo una cosa pensata subito così a caldo bene intanto seguiamo questo fantastico tram abbiamo questa visione del nostro incrocio l'incrocio principale dove ci sono sempre tante persone che camminano perché come come ci andiamo a ricordare abbiamo un sacco di piste ciclabili come vedete la nostra città è molto affollata ci sono molte persone guardate quante guardate quante persone che vanno a piedi poi devo riuscire a capire se riesco a trovare quante le statistiche di quante persone vanno a piedi e quante persone invece vanno con i trans con i mezzi pubblici e con le e con le auto sarebbe interessante allora volevo provare da questa parte andare ad aggiungere qui un una piazza andiamo quindi a fare un po di layout qua andiamo a fare tutta roba pedonale mezzo e mezzo faremo un po di pedonale e un po e un po di collegamento normale e Grazie a tutti. Andiamo quindi a fare un semplice layout dove andiamo poi ad usare MoveIt per tirare su e giù sia le strade sia la piazza che la underground plaza qui che sono andato a scegliere. Quindi vado a selezionare i nodi e vado poi a tirare tutto verso l'alto. Perché non è tutto assolutamente pianeggiante, come sapete io non spiano tutto quanto, tento poi piano piano di andare a trovare la posizione perfetta. Andiamo. 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 Direi che questa potrebbe essere un'idea. Questa sunken plaza con questa specie di centro commerciale qua sotto. Vedete che c'è un'altra piazza dentro una piazza con sotto una piazza. Poi allora si potrebbe qua attorno provare a mettere un po' di hotel. Andiamo a vedere per esempio gli hotel come risultano appetibili. Allora ovviamente non abbiamo messo neanche uno qua. Quindi siccome c'è un budget hotel ecco uno si potrebbe metterlo qua nella zona commerciale. Che abbiamo appena 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 messo. Ci mancherà qualche cosa però potremmo qua dietro metterci un po' di alberi e sperare che gli piacciano. Andiamo a vedere se riusciamo a mettere questo normale. Allora mettiamo un po' di alberi appunto dietro al budget hotel. Anche fra uno e l'altro. Non voglio togliere il collision. Lo voglio lasciare. Ci mettiamo un po' di alberi qui nel parcheggio. Qualche albero qua al centro. Non mettiamo planters per adesso. Questo è un hotel. Gli manca la sightseeing view però buh. Cosa dite? Ah ci mancano gli uffici qua. Dice che ci mancano gli uffici. Business ne abbiamo finché vogliamo. Sightseeing ne abbiamo finché vogliamo. Network location assolutamente zero. Se noi andiamo a diminuire il prezzo. Diminuisce. Sì. Aumenta leggermente. Eccolo qua. Diminuendo il prezzo. E poi probabilmente potremmo fare qualche ufficio. Potremmo fare qualche ufficio da qualche parte. Per esempio. Per esempio di qua. Vediamo se riusciamo. Se riusciamo a partire. Allora. Così. Sì. Andiamo invece di fare questa discesa. Ad aggiornarlo. Così spuntano. Ah no. Peccato. Ci si distrugge tutto. Allora. Andiamo temporaneamente a togliere il collision. Così spuntano fuori tutti gli alberi. Che bello. Quando spuntano fuori tutti gli alberi del collision. Sono assolutamente contento. Questo lo posso togliere. Questi quali possiamo lasciare. Pranne questo. Non mi piace. Questi alberelli. Questo alberello messo qua sopra non ha senso. Questo messo al centro della strada. Neanche. Così. Questi li andiamo a togliere. Ma questi qua al centro potremmo anche lasciarli. Non mi danno fastidio. Anzi. Lasciamoli lì. Allora siccome abbiamo fatto questo piccolo giochino di uffici. E' per mettere gli uffici vicino ai nostri amici. Questo non mi piace. Allora se noi proviamo a metterlo così mi si distrugge. Allora li mettiamo a mano. No. Però ci sta. Ci sta anche con lo zoning. Guardiamo cosa viene. Vediamo se riusciamo a zonare qua davanti. A vedere se vengono un po' di uffici. Magari gli piacciono anche al nostro hotel. Che sta guadagnando praticamente pochissimo. Qui quale gli piace nessuno. Questo. Questa specie di bugigattolo. Allora direi che lo mettiamo qua di fianco al parcheggio. Ne mettiamo un paio. Qua di fianco al parcheggio. Allora ci mancano. Ci manca business. Ci manca un ufficio. Ci manca zona commerciale. Zona commerciale. Allora mentre la zona commerciale si può farla comunque qua. Quindi potremo vedere cosa avviene. Allora questa è bassa densità. Potremmo mettere anche questa bassa densità. Abbiamo un bel parcheggio vicino. Chi non vorrebbe andare a soggiornare con un budget hotel ragazzi. Quindi ora non esageriamo. Non è che si può fare chissà cosa. Questo è un hotel. Anche questo. È diventato un hotel di fianco a un hotel. Ma questo è un hotel vero. Questo è un hotel che si chiama solo hotel. Ah no diventa turismo. Bello mi piace. Questo uguale. Ebbè è buono. Così ci sono un po' di... Ah questa è tutta zona turismo. No? Allora non facciamoli. Questi sono tutti hotel eh? No no no. No no no. No ragazzi no. Non mi piace così. Lo facciamo nuovo qua. Assolutamente. Non voglio tutti questi hotel qua vicini. Andiamo a vedere mettendo una zona a bassa densità cosa viene fuori. Questo è uno small playground che non ha... Non ha variation però va bene. Va bene così. Potremmo mettere le gabine lungo il fiume per esempio... Per esempio... Per esempio qui? Eh non sarebbe male. In effetti fare una piccola zona qui. voleremo fiume. Per ovirmo fiume. Va bene. Come vai via 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 Per E. Per esempio io sono un l vediamo se mettendo un po di parco andiamo ad ingrandi anzi no potremmo già fare l'area parco naturale qua se mi piace come idea potremmo iniziare potremmo fare un parco naturale qua e all'interno di questa area nel parco naturale dovremmo riuscire se mi ricordo bene a sbloccare questo è il natural reserve eccoli qua la fishing cabin quindi abbiamo un parco di qua facciamo un altro parco di qua andiamo quindi a mettere la main gate andiamo a cercare il punto vicino qui alle gabine direi che è abbastanza bello quindi si riesce ad intercettare il traffico e i turisti della zona commerciale siamo sulla strada principale vediamo di mettere un po di punti campeggio per avere un po di punti per andare a scalare i livelli del nostro del nostro parco quindi ad arrivare alla quinta zona anche qui andiamo a togliere ogni tanto un po di collision e poi ci ricordiamo di andare a rimetterlo facciamo un misto di percorso tradizionale gravel e percorso invece del proprio dell'area dell'area naturale mettiamo un po di un po di viste un po di piattaforme che devono essere collegate con i percorsi spostiamo il nodo con move it e ne mettiamo un'altra dall'altra parte dove poi si vede il mare bene così andiamo adesso a vedere dopo aver messo un po di strutture di base ed essere arrivati come avete visto a 649 di intrattenimento andiamo attorno appunto al nostro castello andiamo a cercare allora qui già la vista qui siamo al massimo mamma mia qui questi avvenne essendo nel parco è diventata una cosa pazzesca allora qui davanti ci mettiamo anche qualche bel molo qualche bel fishing vediamo lo prendiamo da qua eccolo must be in the park and the roadside che fortunazza siamo veramente fortunati e questo è l'aspetto della nostra zona alberghi con questi due pierre questi due questi due pontili di pesca questo è un pochino alto allora andiamo un po a renderlo leggermente più basso allora andiamo con una bella m a selezionare questo e volevo provare ad abbassarlo così però come vedete mi da subito l'errore e non capisco sinceramente perché perché questo l'ho selezionato c'è il percorso vicino però non non gli piace proviamo così così gli piace così no quindi il percorso lo prende ma non lo prende non è proprio il massimo ok allora lo lasciamo così lo lasciamo così vanno a pescare allora qui davanti possiamo aumentare il parco potremmo farlo arrivare fino a qua e fare un'altra entrata da questa parte andiamo nel nostro parco naturale andiamo a vedere prima di tutto che ci arrivi la zona parco e di fatti non ci arriva allora andiamo qua andiamo a prendere questo piccolo allargamento così perfettamente adesso qua di fianco al parcheggio al posto di metterci questa villa ci mettiamo un'entrata parco che è questa secondaria allora questo è small main gate main gate side gate ed è quello che vogliamo noi vogliamo un side gate qui andiamo a selezionare sempre il percorso normale un percorso naturale un po alto un po basso giustamente non è che può essere tutto quanto alto mi piace mi piace ok quindi abbiamo fatto un'altra entrata del del parco anzi qui di lato secondo me non abbiamo messo il è di fatti di fatti mi sembrava che non ci fosse allora andiamo a togliere leggermente gli alberi da qua dentro andiamo ad aggiornare questa parte ci mettiamo il percorso del parco così viene collegato infatti vedete che qui comincia il sentiero ma non comincia non è che mi entusiasma vediamo se era un discorso che mancava no 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 ci vuole proprio il suo beh ok no e perché no ma guarda che strano ma ecco c'era la casa sopra infatti mi sembrava mi sembrava ok che buffo c'erano due zone una sopra l'altra bene questa non gli piace andiamo a mettere questa ok questa gli piace ok perfetto direi che come area parco abbiamo fatto 800 qui siamo a 97 bene e dovrebbero arrivare adesso piano piano le persone andiamo a mettere un'altra area da questa parte andiamo a fare un coppia lo facciamo direttamente col movit facciamo un clona lo selezioniamo clona poi andiamo col tasto destro a girarlo e direi che lo possiamo mettere qua di fianco al parcheggio che direi non ha molto senso il parcheggio qui anche perché vuole sicuramente un altro tipo di strada per cui bisogna andare a cambiare quella strada quindi cancelliamo il parcheggio e andiamo a modificare questa strada andiamo a spostare la nostra entrata non prima di aver cambiato fino a questo punto almeno la circolazione quindi andiamo a rimettere un po' di luce altrimenti non vediamo niente e andiamo a collegare con il percorso e direi che potremmo anche fare un'entrata del parco da questa parte tutto questo risulta un bel parco gigantesco poi andremo a cintarlo andremo a mettiamo un'altra side gate qua quindi andiamo ad allargarlo dov'è? dove sei? adesso andiamo a distribuire un po' di cose qui al centro di modo da far arrivare la corrente perché così almeno a far arrivare la power abbiamo questa hunting cabin che la potremmo mettere ne potremmo mettere appunto un paio qua poi qui davanti direi di andare a mettere una sola cosa una una look out basta sì che basta eccola qua qui c'è una look out e poi direi di metterne un'altra look out allora qui manca la corrente ma si stanno lamentando questi ragazzi no per cui direi che ne possiamo mettere allora andiamo a mettere un altro campeggio? andiamo a mettere un altro campeggio mettiamo un altro qua vicino ok perfetto così risultano sì così c'è il nostro la nostra parte la nostra parte campeggio allora qui potremmo mettere un po' di zona commerciale oppure mettere proprio un parco secondo me possiamo mettere un po' di commerciale self direi che secondo me possiamo mettere due parcheggi qua adesso vediamo cosa viene fuori andiamo a cintare andiamo a mettere i nostri il nostro fence del parco naturale vediamo se riusciamo a trovarlo che è questo andiamo a togliere un po' di collision così andiamo sempre andiamo a giocare un pochino col collision senza tenerlo disattivato perché altrimenti poi può sempre succedere di dimenticarselo e i nodi non vengono uniti e quindi non è proprio così facile non è proprio così bello ecco questo viene qua qui ce n'è uno esattamente nel mezzo della strada lo mettiamo da questa parte questi li lasciamo qui anche questo nel mezzo va bene mi piace andiamo ad aggiungere qualche albero qua e là usando il clone che è sempre il nostro carissimo amico ok direi che piano piano la nostra zona l'abbiamo l'abbiamo mischiata abbiamo fatto il nostro inizio di parco naturale poi andremo a decidere cosa metterci qua se metterci una piazza uno unique building qualche cosa se metterci la ruota panoramica potremmo metterci anche qua no però c'è già il castello però in effetti non è male la ruota panoramica potremmo metterla di qua così si vede sia il campus che il castello potrebbe essere un'idea quindi qua ci potremmo fare un qui ci potremmo fare anche una stazione così il treno lo facciamo arrivare qua e lo facciamo anche proseguire e se poi lo colleghiamo qui poi possiamo andarlo una volta che andiamo a sbloccare questa parte andiamo a fare un un loop potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea bene direi che il nostro parco naturale che per adesso si chiama Cooperbrook è messo bene togliamo il movit così riusciamo a vederlo 246 allora l'unica cosa che mi volevo assicurare era che avesse le fermate ma direi di sì andiamo a vedere qua anche perché allora siamo a 80% come traffico non siamo altissimi però non abbiamo minimamente dedicato non abbiamo minimamente dedicato nulla al traffico non ci siamo preoccupati minimamente quindi poi sarà il caso di andare a vedere abbiamo anche abilitato i parcheggi vi ricordo quindi qua diciamo che si potrebbe e questo è bello perché questo dice che è il parcheggio che vuole il parcheggio bene questo è un decorative parking lot andremo ad aumentare il numero il numero di parcheggi qua e andiamo a vedere invece i trasporti allora i trasporti qui ci mancano un po' di trasporti qui al centro dice parrebbe da quello che vedo qui sì abbiamo messo proprio una fermata una fermata qua ci manca una fermata qui davanti che direi che la possiamo andare a giungere subito questo è quanto quindi direi che per la prossima volta mi vado a studiare il traffico andiamo a vedere come andare a snellire ma direi che sicuramente dobbiamo collegare qualche cosa dobbiamo provare a collegare o a fare un'uscita potremmo provare a fare un'uscita anche per esempio in questo modo in questo modo brusco non è che deve essere tutto particolarmente bello allora vediamo vediamo se riusciamo allora riabilitiamo il collision non in questo modo andiamo a fare un'uscita così ecco già questo secondo me come uscita potrebbe essere interessante poi da questa parte andiamo andiamo a collegarlo così qui ci facciamo un sottopasso e così facciamo andare quindi questo lo facciamo diventare solamente la way out questa è la way in vediamo vediamo se questo ci porterà a qualcosa bene questo è quanto se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale lasciate un commento un suggerimento una rinomina e se volete supportare il canale come le persone che vedete in sovraimpressione potete abbonarvi e per tutti gli abbonati che vedete un abbraccio grandissimo un ringraziamento concreto e per tutti voi che vi siete divertiti e avete trovato un qualche aiuto in questo video un grazie e fino alla prossima vi auguro una fantastica giornata ciao ciao ciao